Lancio! Vai via! Si inizia eh! Pieno ora! Eccola! E allora si che si perde in piacche l'ora che gliel'hai detto! Il slammatore? No! E' la domanda! Vabbè va bene quello bianco eh! Si ma non è quello che usavo! Non so dove cazzo è finito per l'altro! Vai che non è tutto bene! Ok! 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 quella di prima è bello c'è questa qui, via! da me bucano, ecco, mi ha sfatto la mano, mi ha sfatto ma com'è la montatura che ti ho fatto? che ho preso? che ho preso? che ho preso? ma mi dico no, è la stessa direzione oh, sta svegliando no, questa è più grossa nella nord Luciano! guarda questa, scusa questo è veramente bello c'è ragazzi